... Circa un'ora fa, lungo la viemina interna di Castel Bolognese, un nuovo incidente mortale. Una berlina rossa, guidata da un uomo di circa 50 anni, stava andando in direzione Faenza. Quando ha investito un'anziana signora che stava attraversando sulle strisce pedonali. Questa volta il guidatore, dopo aver travolto la donna, si è fermato, ma ormai era troppo tardi. La signora era arrivarsi esanime sul ciglio della strada, a circa 10 metri dal punto dell'impatto. Subito i carabinieri sono intervenuti, coprendo il corpo della donna, interrogando il conducente dell'auto rossa. Le generalità, sia dell'automobilista che della vittima, non sono ancora state comunicate. Quello che è certo, che la donna sia morta sul colpo. Come sia possibile che a poco più di un mese dalla morte di Mel de Gretti, un'altra famiglia debba piangere la violenta scomparsa di una sua cara, non è comprensibile. I cittadini di Castel Bolognese non hanno voluto esprimere il loro sconforto e il loro sgomento davanti all'ennesimo incidente. Fra di loro c'era anche il figlio della signora Gretti, che a microfoni spenti si è abbandonato alle lacrime al pensiero dell'incidente in cui ha perso la vita a Mel de. Si è dichiarato sconvolto che a nemmeno un mese dal tragico accaduto, ancora un'altra persona si è morta allo stesso modo. E in effetti, il fatto che lo schianto sia avvenuto nello stesso punto, con le stesse modalità, dà sicuramente da pensare.